Leonardo Silva Revisore Nei prossimi dieci minuti o poco più, cercherò di mettere insieme vari tasselli di un puzzle che a prima vista non sembrano combaciare. Parlerò infatti di tumori e di musica. Parlerò di laser e ultrasuoni. Parlerò di cellule e vibrazioni. Se riuscirò al mio intento, però, alla fine avrò dipinto un quadro per spiegarvi com'è possibile usare i laser per far vibrare le molecole, ascoltare il suono che fanno e così identificare i tumori. Ecco, partiamo proprio dai tumori. Oggi la diagnosi di un tumore generalmente è affidata ad un patologo, un medico specialista di laboratorio e quello che si fa è prendere un campione di tessuto, trattarlo con decoloranti di contrasto e guardarlo visivamente al microscopio. Questo potrebbe essere un risultato di esempio. Vedete che nella parte bassa c'è una proliferazione di cellule che indica appunto la presenza di un tumore, mentre la porzione superiore è sana. Il difficile compito del patologo non è solo quello di localizzare il tumore, distinguere dalla parte sana appunto, ma è anche e soprattutto quello di identificarne la caratteristica, la tipologia specifica tra le più di 100 tipologie di tumori esistenti. Ovviamente fare una diagnosi corretta è fondamentale per poter intraprendere un percorso di cura mirato e quindi più efficace. Purtroppo per certi timori oggi questo è difficile, ad esempio a volte due patologi si trovano in disaccordo sulla diagnosi dello stesso pezzo di tessuto. Ecco che allora il mio compito è il seguente, col mio gruppo di ricerca sto intraprendendo un percorso finanziato della comunità europea per cercare in qualche modo in futuro di sostituirsi al ruolo del patologo, ora non me ne voglia la categoria, non voglio togliere loro il lavoro, lo scopo è quello di realizzare un microscopio come potrebbe essere questo, che in futuro possa entrare in sala operatoria oppure in uno studio medico che permetta di fare una diagnosi di un tessuto a rischio, eventualmente identificarne il tumore se è presente, in maniera non invasiva, quindi senza dover rimuovere il tessuto né danneggiarlo e soprattutto in tempi rapidi, cioè senza dover aspettare lunghi esami di laboratorio. Ora, com'è possibile fare tutto questo? Grazie a questo signore, Chandrasekhar Raman, primo Nobel indiano per la fisica nel 1930. Raman ha scoperto un fenomeno fisico che porta appunto il suo nome, l'effetto Raman. L'effetto Raman serve per identificare chimicamente una molecola di cui è fatto il tessuto sotto esame, perché ha un certo suono. Vediamo di spiegarlo in questa maniera. Prendiamo una molecola di acqua, che è la molecola più comune e facile, due atomi di idrogeno e un atomo di ossigeno, e pensiamo di prendere un martelletto e colpire la molecola di acqua. Ecco, la vedremo vibrare in maniera caotica, apparentemente senza senso. Eppure, se la scomponiamo nelle sue componenti principali, scopriamo che invece vibra secondo delle vibrazioni più semplici. Il primo modo è questo, e vediamo che fa una specie di respiro, nel senso che le distanze si allungano e si accorciano periodicamente. Il secondo modo di vibrare dell'acqua è il seguente. Fa una specie di flessioni, nel senso che si apre e si chiude periodicamente, come fosse un paio di forbici. Cosa vuol dire tutto questo? Lo capiamo se facciamo un esempio. Prendiamo una chitarra. Se suoniamo una corda di chitarra, sentiremo una nota. Ecco, questa nota in realtà non è una frequenza pura, un suono puro, ma è l'insieme di tante frequenze che vibrano insieme. Per le molecole è un po' la stessa cosa. Colpendo una molecola con un martelletto, la faremo vibrare secondo tante frequenze caratteristiche che sono come dei suoni, che qui ho identificato con queste onde gialle che si propagano verso l'esterno. L'insieme delle frequenze che vibrando insieme formano questo movimento si chiama timbro. Ecco, il timbro è quello che ci permette, ad esempio, di distinguere il suono di un pianoforte dal suono di una chitarra. Analogamente, se ascoltiamo due persone che parlano e dicono la stessa frase al telefono, sappiamo distinguere chi ha parlato perché anche le persone, come gli strumenti musicali, hanno un timbro caratteristico. Potremmo dire una voce caratteristica. Ecco, per le molecole succede esattamente la stessa cosa. Una molecola, vibrando, vibra secondo un caratteristico timbro. L'abbiamo visto per l'acqua, che non ha un solo modo di vibrare, ma respirava e faceva le flessioni. Ora, se prendiamo una molecola più complessa, come potrebbe essere una di queste due proteine, allora potrà vibrare secondo una serie di frequenze molto più complesse, alcune più forti, altre meno, che possiamo utilizzare per identificarle univocamente. Come prima, possiamo identificare il pianoforte e una chitarra dal suo timbro, così anche queste due molecole molto complesse suonano diverso. Ad esempio, se colpiamo la prima, potremmo sentire un pezzo di pianoforte. E invece, se colpiamo la seconda, sentiamo una chitarra elettrica. Ecco, al stesso modo, quindi, possiamo identificare le molecole, grazie al processo Raman, perché suonano in maniera diversa. Allora, a questo punto possiamo, ad esempio, guardare una cellula come questa e, ad esempio, se conosciamo che il suono fa il DNA, ci sintonizziamo sulla sua frequenza e andiamo a fare una mappa della concentrazione del DNA, come questa in viola, e vediamo che è soprattutto concentrato nel nucleo, perché lì il suono è più forte. Se invece ci sintonizziamo sul suono delle proteine, qui in blu, vedremo un'altra mappa di concentrazione. E così anche per i lipidi, che sono i grassi, che vediamo essere concentrati soprattutto in questi puntini verdi che vediamo in basso, che sono appunto zone di accumulo di lipidi. E alla fine facciamo un'immagine in falsi colori, che è la quarta, che è una sovrapposizione delle prime tre. Ora, ci manca da capire che suono fanno le molecole. Per capirlo, torniamo all'esempio della chitarra. Se noi ora tocchiamo il tasto di una chitarra, accorciamo la corda. Accorciando la corda, il suono sarà più acuto. Ecco, ora, se noi potessimo accorciare ancora di più la corda, fino a farla diventare così piccola come una molecola di acqua, il suono sarebbe acutissimo. In altre parole, le molecole, gli atomi della molecola di acqua, devono fare delle distanze, nella sua vibrazione, molto piccole. E quindi il tempo per fare queste distanze, per comprare queste distanze, è molto breve. Se il tempo è breve, lo possono fare tante volte al secondo, e quindi la frequenza è acuta, acutissima. È così acuta che è 20 milioni di volte più alta di quanto possiamo ascoltare noi con il nostro orecchio. Quindi ci vuole un orecchio, direi, da supereroe. Un orecchio a ultrasuoni. In realtà, non si usa un orecchio a ultrasuoni per ascoltare il suono delle molecole, ma si usa un laser. E questo è proprio il mio lavoro. Io non sono un medico, un musicista, o un esperto di acustica, ma sono un fisico che lavora con i laser. I laser, in questo processo, non serve solo per ascoltare il suono delle molecole, ma serve anche e soprattutto per metterle in vibrazione. Infatti il suono è così elevato, la nota è così acuta, che anche il martelletto che colpisce la molecola per farla vibrare deve dare un colpo secco, rapido, rapidissimo, più rapido di quanto noi possiamo immaginare. Ed oggi, lo strumento più rapido mai inventato dall'uomo è proprio il laser. Il laser, infatti, si può accendere e spegnere in una frazione infinitesima di secondo. Tic-tac. È come se fosse un flash di una macchina fotografica, ma molto, molto più rapido. Per capire quanto è rapido un flash di una macchina fotografica come il laser, basti pensare che è così breve che rispetto a un minuto di tempo, quanto un minuto di tempo sta all'età intera dell'universo. Oppure, come questa moneta da un centesimo, è poco rispetto all'intero debito pubblico italiano. Dura un milionesimo di miliardesimo di secondo. È l'evento più breve ma realizzato dell'uomo. Ecco che allora, concentrando così tanta luce in così poco tempo, questa luce colpisce la molecola, la mette in vibrazione e possiamo sentirne il suono. Ecco, io mi occupo proprio di questo, di laser. Sviluppo nuovi sistemi di laser per mettere in vibrazione le molecole. Potremmo dire che sono una specie di musicista molecolare. Da 15 anni lavoro in laboratorio, questo è il laboratorio in cui lavoro, sono quello lì indietro a sinistra, e ho fatto diversi studi, mi sono occupato di capire, ad esempio, dei processi di base della fisica come la fotosintesi oppure i processi di base della visione umana. Ma da un po' di anni stavo cercando un problema che fosse anche utile. Stavo cercando un problema che avesse dei risvolti pratici importanti per la società. È stato un po' un processo di serendipity, potremmo dire. Serendipity è un termine cognato da questo scrittore inglese a fine del Settecento che potremmo definire come il trovare una cosa non cercata e imprevista mentre se ne stava cercando un'altra. Ecco, io ero tutto concentrato a sviluppare nuovi laser che poi mi sono accorto, un po' per caso, un po' per fortuna, che questo poteva essere applicato per qualcosa di utile. che era lo studio dei tessuti e l'analisi tumorale. Con il mio gruppo di ricerca e altri nel mondo stiamo quindi cercando di sviluppare un innovativo sistema di microscopia in grado di analizzare i tessuti e identificare i tumori. I primi risultati sono molto incoraggianti. Vedete, ad esempio, qui due risultati di identificazione tumorale nel primo caso di un tumore della pelle e nel secondo un tumore del cervello. E questo è stato possibile semplicemente ascoltando solo due o tre frequenze acustiche, solo due o tre note delle molecole che stavano vibrando. Cosa manca quindi adesso? Manca la possibilità di estendere la capacità di ascoltare questi suoni e quindi ascoltare tutta l'interezza della musica che emettono le molecole. E così non solo trovare dove è il tumore ma identificarne precisamente la caratteristica, la sua tipologia. E secondo, serve farlo in tempi rapidi. Cioè serve avere una risposta in pochi minuti. In questa maniera, in futuro, sarà possibile fare un'identificazione tumorale in tempi brevi, qualitativa, quantitativa, oggettiva, riproducibile e così migliorare l'esito degli interventi oppure delle possibili, diciamo, interventi delle cure antitumorali. Ecco, diciamo che questo è quindi il mio progetto di ricerca che spero diventi una realtà nei prossimi dieci anni. Grazie. Grazie.